Il Teneo è un partner fondamentale di inferiori future forum e noi chiediamo molto in questo perché il presente è il grado del futuro e il futuro è il colore del presente. Come il Teneo metteremo a disposizione tutti i nostri docenti che partecipano ai tavoli ma siamo anche pronti, qualora si creassero le condizioni, a organizzare anche dei seminari o dei corsi ad hoc per gli studenti o neolaureanti che vogliono percorrere all'interno di questi percorsi, delle iniziative imprenditoriali capaci di dare l'azione a queste visioni.